Un Bartabacchi, due ville, sei immobili, terreni e valori in deposito di una società riferibile alla famiglia Madonia. Sono i beni che valgono oltre 4 milioni di euro confiscati questa mattina dai carabinieri del ROS su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo, direzione distrettuale antimafia, agli eredi dei boss Francesco Madonia e Francesco Di Trapani. I militari hanno eseguito un decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Grazie alle indagini svolte, gli eredi dei defunti uomini d'onore in vita esponenti apicali del mandamento di Palermo-Resuttana sono stati valutati come soggetti sottoponibili alla misura di prevenzione. Secondo il Tribunale, infatti, ben in questione erano direttamente riconducibili ai due boss e comunque sussistono sufficienti indizi per ritenere che siano stati frutto di attività illecite o che ne abbiano costituito il reimpiego e che siano stati originariamente acquisiti e sottoposti alla diretta gestione di Madonia e di Trapani. Nel corso delle indagini effettuate dal ROS è stato acclarato che dopo l'arresto e fino ai decessi i due capi mafia attraverso i loro familiari più stretti hanno continuato ad impartire direttive nella gestione delle attività illecite del mandamento per il compimento di delitti nell'interesse dell'associazione mafiosa e l'amministrazione del cospicuo patrimonio imprenditoriale ed immobiliare dislocato tra Palermo e provincia. Le indagini patrimoniali hanno permesso di individuare l'epoca in cui sono state concretizzate le intestazioni fittizie di imprese, immobili e terreni agli eredi dei due noti uomini d'onore. Eredi a loro volta coinvolti come affiliati o contigui all'associazione mafiosa nell'indagine Rebus che nel 2008 portò all'arresto di 5 persone.